Si è svolto oggi un momento di protesta da parte della Lega Nord di Arco davanti all'ospedale contro la decisione di chiusura del reparto di riabilitazione. Tagli e ridimensionamenti all'ospedale di Arco, anche la Lega Nord si muove. Certo, la Lega Nord è tra l'altro nuova in questa zona come organizzazione politica, però ritengo che in questo caso di politico vogliamo dire ben poco, vogliamo semplicemente rappresentare quella che ormai è la voce di tutti i cittadini. Sarebbe bello poter dire senza bandiera, ma purtroppo una bandiera su questi ridimensionamenti ci sono e ci sembra essere quella di una politica a livello provinciale che già da anni ha lanciato dei segnali in questo senso e non per nulla il nostro consigliere provinciale Maurizio Fugatti già nel 2015, quindi un paio di anni fa, aveva cercato di sensibilizzare tutto il consiglio provinciale di Trento paventando la possibilità di ridimensionamenti che poi effettivamente si sono verificati. Ricordiamo che nell'agosto del 2016 è stato chiuso il punto nascite e dopo qualche giorno, qualche settimana, da tre i presidi delle guardie mediche e sono rimasti solamente uno per quel che riguarda tutta la zona dell'Alto Garda. Ieri abbiamo aperto i giornali e abbiamo letto, anche se comunque la cosa era nell'aria, che anche il centro di riabilitazione motoria a giorni dopo aver esaurito quelle che sono le pratiche in corso, così si dice, e verrà ridimensionato. A nostro parere, a nome mio e da parte di tutti i componenti della nostra sezione, come Lega Nord di Arco e come Lega Nord Alto Garda e Ledro, il nostro intento è quello di sensibilizzare una popolazione che comunque già sta pagando di persona questi tagli. Una cosa che ci fa pensare, non poco, è il fatto che contemporaneamente sia stato annunciato che da parte di Cavalese, e comunque ci fa piacere la possibilità di una soluzione per un'altra realtà sanitaria, fra virgolette, periferica, possa poter riaprire quello che può essere un tavolo di trattative con il Ministero della Salute. Ci viene però da pensare questo e, ripeto, a noi farebbe veramente piacere che comunque altre realtà che stanno vivendo dei tagli pesanti possano risolvere la situazione. Però ci viene da pensare che quello che manca all'Alto Garda e Ledro sia un peso politico che possa veramente influenzare delle scelte politiche, e questo ci teniamo a sottolinearlo perché non ci vengano a raccontare che sono scelte economiche, ma sono scelte politiche, di una giunta provinciale che si sta adeguando a quelli che sono un po' i dettami del Governo nazionale. Detto questo, ci dispiace che questo venga detto fra l'altro da partiti, come uno che è presente in Consiglio Provinciale e nella persona anche del Presidente, che nel loro nome abbiano una parola come autonomia, un'autonomia a cui noi crediamo tantissimo e che però dovrebbe farci spiccare il volo su certe specialità come quelle della sanità. Un'altra cosa che ci fa specie è il fatto che la Regione Lombardia e la Regione Veneto, a noi vicinissime una est e l'altra a ovest, pur avendo uno statuto ordinario, stiano intavolando un discorso molto più proficuo e molto più risolutivo nei confronti di quelli che sono gli ospedali cosiddetti periferici. In quanto al periferico avremmo da ridire anche qualcosa su questo, perché nell'ospedale di Arco non mi pare proprio che si possa chiamare periferico visto il vaccino d'utenza.